Il 2012, il 2013, il 2014, il 2015, noi intendiamo utilizzare i fondi messi a disposizione dal comune di Carola, non solo consigliare, chiediamo, visto che si tratta del cumulo di 4 anni, che questi fondi, se non utilizzati, siano spesi per risistemare l'aula consigliare, in particolare le sergiore su cui si siedono i cittadini che assistono al Consiglio Comunale. E vi permetto anche di chiedere la stessa cosa. I gruppi consigliari, se non ricordo male, in questo senso, uno di anni fa si era mosso anche al Partito Democratico, non so se vuole confermare quanto è visto, o se pure i consiglieri del Partito Democratico decidono di trattenere.